Musica E' proprio questo il significato di questa giornata, prima di tutto nel ricordo di Ciro far vivere le persone, in questa occasione far vivere i bambini, la positività di questa giornata è proprio l'unione di tante associazioni che sono sul territorio, le cose belle, positive, di quali si parla poco, questo secondo me deve essere anche il messaggio di questa giornata, dobbiamo dare speranza a questi bambini e secondo me il modo migliore è proprio questo. La prima festa dell'Epifania arriva nella villa comunale di Scampia grazie all'associazione Ciro Vive, con il patrocinio del comune di Napoli, dell'ottava municipalità, dei vigili del fuoco e della loro associazione, insieme con altre realtà dell'associazionismo e dell'imprenditoria. Un ritorno dopo il successo dello scorso anno, arricchito dalla struttura di Pompieropoli che ha reso protagonisti i bambini con gli speciali percorsi e gli attestati dei vigili del fuoco, oltre alla banda musicale della fanfara e ad attività lurico ricreative ed espressive come i laboratori di riciclo, manipolazioni di materiali e rappresentazioni teatrali, tutto sul tema dell'Epifania. Con l'associazione Ciro Vive, con Gianni e Antonella, il papà e la mamma di Ciro, ancora una volta impegnatissimi per la città, per il sociale, per i bambini, siamo qui in questa bellissima villa di Scampia, associazioni, volontariato, pompieri, il comune di Napoli, siamo tutti noi per dimostrare che Ciro Vive e Napoli è sempre più viva.